Cyberpunk 2077 è rinato con la versione 2.0? Ha finalmente raggiunto la redenzione? Beh, non è necessariamente vero, ma prima di sviscerare l'argomento vi invitiamo, come al solito, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri mirabolanti contenuti video. Capiamoci subito? Con questo video non vogliamo versare sale su ferite ancora doloranti oppure reinnescare discussioni parzialmente tumulate. No, quello che vogliamo fare è ripercorrere il percorso evolutivo del titolo dalla versione di lancio fino alla 2.0 per vedere come è cambiato il gioco nel corso del tempo. La prima tappa di questo viaggio è anche il suo snodo più doloroso e coincide con l'approdo sugli scaffali di un titolo accompagnato da una mole gargantuesca di aspettative che purtroppo sono state in parte disattese. Questo perché, pur offrendo un amalgama luto narrativo di spessore al centro di una cornice metropolitana straordinariamente vivida e avvolgente al lancio Cyberpunk 2077 mostrava il fianco con diverse incertezze sul fronte del design che peraltro lo disallineavano rispetto alle prospettive delineate da una comunicazione a dir poco reboante. Le critiche rivolte al gioco trovarono poi una fragorosa cassa di risonanza in quello che era indubbiamente l'anello più debole della proposta del Day One ovvero delle versioni all-gen del gioco che semplicemente non funzionavano. Ecco, permetteteci di rimarcare per bene questo punto. Al di là delle proprie personali opinioni su quello che era e non era Cyberpunk 2077 al lancio è indiscutibile e indubbio come le versioni PlayStation 4 e Xbox One fossero al tempo disastrose. Non a caso nei primi tre mesi dopo il lancio il team di sviluppo si focalizzò soprattutto nel tentare di risolvere la situazione ma sia con la patch 1.1 che con la successiva 1.2 arrivata a tre mesi dal Day One le cose non cambiarono in maniera significativa. A onor del vero va detto che a marzo del 2021 Cyberpunk 2077 su all-gen era passato dall'essere un titolo ingiocabile ad uno fortemente sacrificato ma il punto è un altro. È che in generale l'esperienza su Xbox One e PlayStation 4 era lontanissima da quella vista su PC. In pratica era un altro gioco. Nell'anno successivo di patch in patch CD Projekt Red ha continuato a distribuire raccolte di migliorie e fix per tutte le piattaforme ma ad oggi possiamo dire che lo stato di Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 e Xbox One sarà per sempre una macchia sul curriculum dello sviluppatore polacco. Insomma non se ne esce. Per quanto riguarda l'esperienza su PC nei 14 mesi successivi al lancio il gioco ha subito interventi più o meno significativi portati a termine col prezioso contributo del feedback comunitario ma è la patch 1.5 a rappresentare il primo vero punto di svolta per Cyberpunk 2077 un punto che coincide con l'esordio del titolo sulle piattaforme dell'attuale generazione un esordio attesissimo. A febbraio del 2022 Cyberpunk 2077 affronta quindi un nuovo Day One su console che fortunatamente si conferma essere molto diverso dal precedente visto che i porting per PlayStation 5, Xbox, Series X e S sono questa volta di pregevole fattura. Al di là degli elogi riservati al comparto tecnico su tutte le piattaforme con l'uscita della patch 1.5 arriva anche un lungo elenco di cambiamenti, migliorie e revisioni che vanno a toccare molti aspetti cardine del gameplay dal sistema di progressione al livello di difficoltà all'intelligenza artificiale. Complici all'inserimento di feature e piccoli complementi contenutistici assenti al Day One con l'uscita della patch 1.5, Cyberpunk 2077 sembra quindi avvicinarsi alla sua versione definitiva ma non è così. Dopo aver testato a fondo l'ultima patch che ha anticipato l'uscita dell'espansione Phantom Liberty possiamo infatti confermarvi che questo importante traguardo è stato raggiunto con la versione 2.0 del gioco. L'aggiornamento in questione va ad alterare in maniera consistente le dinamiche ruolistiche all'interno della produzione a partire dal sistema di progressione vero e proprio, ora più stratificato e soddisfacente fino ad arrivare alla gestione del cyberware che ora risulta più completa e coerente con quella che è l'ambientazione e quelle che sono le sue caratteristiche. Non mancano poi feature inedite come quelle legate al combattimento veicolare e miglioramenti sistemici ad esempio nella gestione della polizia e più in generale per quello che concerne l'intelligenza artificiale dei nemici. Il complesso dei cambiamenti rende l'esperienza più intensa, equilibrata ed appagante e quindi possiamo stabilire che a quasi tre anni dal suo debutto Cyberpunk 2077 ha da poco raggiunto quella che potrebbe essere la tappa finale del suo percorso evolutivo. Attenzione però, questo non vuol dire che al day one su PC Cyberpunk 2077 era un brutto gioco che poi dopo anni di fatica e tribolazioni è diventato finalmente un bel cigno. No, anche perché le fondamenta dell'esperienza restano sostanzialmente le stesse e ciò che ha fattosi di Project Red negli ultimi tre anni è stato tornire al meglio quelle colonne portanti in modo da permettere al titolo di esprimere il suo pieno potenziale. E meno male, c'è voluto del tempo. In tutta onestà non sappiamo se sia davvero il caso di parlare di rinascita o retenzione di Cyberpunk 2077 ma di una cosa siamo piuttosto certi, nel caso non abbiate mai messo piede a Night City questo è certamente il momento migliore per farlo e vi possiamo assicurare che difficilmente ve ne pentirete. Detto questo, come di consueto, vi invitiamo a farci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del percorso evolutivo di Cyberpunk 2077, se la patch 2.0 ha soddisfatto appieno le vostre aspettative, se l'espansione Phantom Liberty vi è piaciuta, vi sta piacendo, insomma fateci sapere la vostra e nel frattempo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!